Nel cuore della Sicilia, la Fico d'India Fest di Santa Margherita del Belice, in provincia di Agrigento, Ebioscart Plus ha proseguito la sua mission, quella di diffondere in via sperimentale il suo progetto di economia circolare, un focus sulle proprietà organolettiche e il riutilizzo degli scarti del Fico d'India, che ha visto la partecipazione di istituzioni locali e rappresentanti degli ordini professionali. Le relazioni tecniche introdotte dall'Innovation Broker del progetto Carmelo Danzi sono state curate da Massimo Todaro, responsabile linea 1 del progetto, da Mauro Calvagna, referente del progetto, e da Nino Sutera, responsabile dell'Osservatorio Neuro-Rurale del Dipartimento di Agricoltura della Regione Siciliana. Le conclusioni, attraverso video messaggi, sono state affidate a Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento di Agricoltura dell'Assessorato Regionale, e al professor Vincenzo Russo, referente di Neuromarketing e docente della Yulm di Milano. All'interno dell'azienda Interrante, in uno dei quattro campi sperimentali implementati nell'ambito del progetto Ebbio Scart Plus. Siamo felici perché abbiamo avuto modo di ospitare scolareschi provenienti da un istituto agrario dell'Interland e abbiamo avuto modo di spiegare loro l'intento progettuale in questo campo sperimentale. Qui cerchiamo di mettere in scena i presupposti progettuali, cioè trasformare un vincolo aziendale in un'opportunità con la messa dalle bucce di figo d'India, appunto uno scarto, un prodotto non idoneo, la produzione di un alimento per ruminanti e di un compost per le piante. La linea che stiamo seguendo è quella relativa all'utilizzazione di questi sottoprodotti del figo d'India che abbiamo insilato e abbiamo utilizzato nell'alimentazione della pecora da latte. Abbiamo osservato gli effetti sulla produzione e sulla qualità del latte e ancora ci siamo spinti verso l'analisi dei formaggi ottenuti da questo latte e i risultati sembrano essere sorprendenti. Noi puntiamo da tempo su un progetto integrato di filiera che riguarda il fitocomplesso del Ficus Opus Indica. La cosa più importante da sottolineare è la consapevolezza che proprio in questo pezzo d'Italia, di Sicilia, per tutta una serie di condizioni favorevoli, noi abbiamo un fitocomplesso con una concentrazione di principi attivi straordinariamente elevata e quindi una qualità nutrizionale ma utile anche per la cosmeceutica, la nutraceutica, la produzione degli integratori, veramente importante che va assolutamente valorizzata.